Fabio passa meritatamente, bravo portier, e allora una cosa è certa, che Fabio passa meritatamente, però Ragnar fa schifo ragazzi, un portiere così scasso, io chiedo scusa solamente per i miei capelli, per il resto grande prestazione, io consiglio ovviamente per il bene di questa challenge che cambiano portiere, perché è una roba vergognosa, da quando me lo disse Patacchini del suo incontro, ma infatti ma solo da Patacchini potrebbe essere, io pensavo mentisse, infatti sia a te che Patacchini siete fuori ai quarti, ragazzi io non voglio più litigi, no ma no, ti ripeto, ha vinto Fabio meritatamente, Fabio è un giocatore che tira bene, gioca bene, e nulla da dire, sempre fatti complimenti o no a Fabio da quando sei arrivato qua, il primo tiro che ha fatto, sbaglio Fabio, ok, ma tu ti sei presentato con 5 gol nel set, però se c'è una cosa che uno deve ammettere è che Ragnar fa schifo, ragazzi, io lo ripeto, chiedo scusa solo per i capelli, su questo avete ragione, ma solo per i capelli, per il resto io ho, tranquillo, non è, non è adesso, cioè dai, ma perché ha parato bene oggi, no, vabbè ma, ho solito di cose centrali, sotto le gambe, grazie, cioè come fai a prendere un tunnel da lì, vuol dire proprio manco a scuola a calcio, guarda, ride pure Fabio che non ha sentimento, no, bravo Fabio, allora sul tunnel lo possiamo dire tutti, però dai, in realtà, mi sei piaciuto, ma io, è giusto così, ma è giusto, 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 ma non per questo, ma non per questo, ma non per questo, quando ho fatto le cazzette, io sono stato il primo che gli ho dette, però in realtà, come ho detto prima, chi è, chi è poi, vince, festeggia, chi è, chi ti perde, spiega ragazzi, e purtroppo bisogna mettersi anche le proprie responsabilità, non sto, devi stare tranquillo, ma guardate, mi sembra accettato, non riesce a stare le provocazioni, sta lì, no, lui sta scherzando, ma non mai direi scherzi, ma io alla prossima ci sono ancora qua, sì, ma lui è un asino, ma c'ha vent'anni, lui sta scherzando, Vabbè, siamo curiosi a vedere i semifinali adesso, eh, mo Fabio sono cazzi, eh, tra i tipi, chi hai detto, chi vuole ricontrare, non so, non vorrebbe essere nessuno, però, vabbè chi è, non so, tra quelli forse, chi mangia la sfida, guarda, guarda, Nick, forse dicevo che Nick è il più carso, no, no, Nick, è il più carso, Nick, è il più carso, no, no, Nick è il più carso, Nick, è il più carso, Nick, è il più carso, Nick è il più carso, Nick è il più carso, non so, penso sia imbattibile, quindi, per esclusione, c'è questo meme, e gira, comunque a livello caratteriale sarebbe bellissimo vedere Nick Pirlo contro lui, eh, un video muto un ASMR un ASMR